musica 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 Walter ammari per quel gol annullato con il cartellino anche per chi ha visto che ci ha messo il piede a cercare di tutti i modi il gol ma era una partita è capitato un minuto dopo che avevamo preso gol secondo me su una punizione inesistente però a prescindere da questo il campo ha detto che abbiamo preso un punto andiamo avanti per la nostra strada onestamente non siamo più quelli di un mese fa però nel calcio ci stanno questi momenti è un calo fisiologico che con tanti punti di vantaggio ci può stare guardiamo avanti aspettiamo che la matematica ci faccia festeggiare ecco giustamente come diceva il direttore a Cifredi tutto rimandato a domenica a Balsi anche perchè voi ci tenete in particolar modo a farlo davanti sì sicuramente non per questo abbiamo pareggiato oggi noi vorremmo vincere tutte le partite ripeto ogni squadra che gioca contro di noi fa la partita della vita ultimamente sicuramente a noi ci manca qualcosa che forse mettevamo prima però ripeto è una cosa normale è una cosa che ci può stare quando ci stanno tantissimi punti di stacco dalle altre squadre le occasioni per vincere comunque le abbiamo avute non ci siamo riusciti è peccato aspettiamo domenica e cerchiamo di ottenere la matematica il prima possibile grazie a tutti prego grazie a tutti